In Fortezza sarà tutto gratuito, abbiamo fatto proprio un evento dedicato ai bambini ma soprattutto alle famiglie, pensando che per una famiglia spostarsi con i bambini è comunque un costo e abbiamo voluto regalare alla città e soprattutto ai tanti ospiti e turisti che ci auguriamo che con questo evento siano arrivati a Siena, un'iniziativa proprio a misura di famiglia dove tutte le attività in fortezza, quindi spettacoli, visite eccetera saranno gratuite, poi alcune attività collegate all'evento in fortezza quali per esempio le visite guidate all'interno del Museo Civico saranno naturalmente gratuite ma legate al biglietto del Museo Civico, quindi tutti i senesi che avranno voglia di andare a vedere le visite guidate con il linguaggio dei bambini, dall'affresco del Buon Governo e con i giochi potranno entrare gratuitamente perché i residenti non pagano, per i turisti le visite guidate saranno omaggio, un regalo della città e le troveranno con il biglietto del Museo Civico. Quindi un evento a portata di famiglia che il Comune grazie all'imposta di soggiorno e alla Banca Monte di Paschi ha voluto regalare alla città e ai turisti. Le attività che più di tutti, attività possiamo chiamarle, però è un'attività imprenditoriale che è stata veramente preziosa nell'organizzazione dell'evento e non solamente della vecchia fattoria ma proprio di tutto l'evento Siana For Kids, sono state le guide turistiche. Attraverso le due associazioni di guide, la GT, il Centro Guide e Federagit abbiamo costruito un programma prezioso e infatti le visite guidate che appunto saranno gratuite, che partiranno dalla fortezza così come la caccia al tesoro e andranno in città saranno offerte gratuitamente e sono fatte in collaborazione con le guide turistiche. Quindi è una categoria imprenditoriale che è stata parte del progetto e lo ha reso veramente possibile. Ci sono stati alcuni operatori del mondo della ristorazione che hanno fatto un menu a misura di bambino, sul sito enjoysiana.it c'è anche la sezione dedicata ai ristoranti e hanno fatto delle proposte, chi pizza e patatine fritte per accontentare appunto il gusto dei bambini o chi ha declinato per esempio un menu per i grandi ma con i nomi curiosi a misura di bambino tipo il topino di formaggio o qualcos'altro. Quindi per scoprire questi ristoranti andate nel sito di enjoysiana.it, guardate la sezione e se altri se ne vorranno unire il progetto Siena4Kids dura appunto fino a marzo e deve essere uno spunto per gli operatori della città. Alcuni alberghi ho visto guardando che hanno segnalato tutta la rassegna di Siena4Kids facendo delle proposte a misura di famiglia e a misura di bambino. Il progetto del comune così calendarizzato e così programmato avendolo presentato anche in anteprima a luglio alle imprese e alle associazioni di categoria vuole essere proprio da spunto per le attività economiche che ruotano intorno al mondo del commercio e del turismo. La programmazione è certa, è fatta con anticipo, tutti coloro che vogliono entrare a farne parte possono. Grazie. 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 Grazie.